Bella raga qua è Martix e benvenuti su un nuovo video Questo è un video abbastanza insolito, è la prima volta che carico un video del genere all'interno del canale In quanto oggi vi sto andando a svelare le possibili, ma secondo me sono le sicure challenge di domani E che verranno aggiunte con la settimana 7 del pass battaglia Qui metterò di fianco a me uno screen dove mostrerò una per una queste challenge e ve lo andrò a spiegare Anche se sono abbastanza facili da seguire raga Le challenge in questione sono solamente 7, come sempre E la prima da seguire è infliggi danni con gli shotgun ai nemici 500 di danni totali ed è abbastanza facile raga La seconda è elimina nemici a condotti confusi Ci siamo eh, è facile anche questa Eliminazione con armi silenziate, quindi da shotgun passiamo ad armi silenziate che sarebbero gli smg Poi qui arriva il bello raga, dalla quarta cominciano ad essere un po' più carine queste challenge Cerca un forziere, una cassa di munizioni e un airdrop in una sola partita Quindi per evitare che abbiate problemi a completare questa challenge Come c'è scritto lì, in una sola partita dovete trovare un forziere Una cassa di munizioni, le ammo box quelle verdi a terra proprio per le munizioni E un airdrop, ovvero le cosiddette mongolfiere come le chiamano anche alcuni qui all'interno del game Tutto in una singola partita, in un singolo match raga E via, la quarta è fatta anche questa Poi, cerca dei forzieri al rifugio ritirato Di solito sono sette i forzieri da trovare con questo tipo di challenge E sarà una challenge diciamo complicata all'inizio perché si ci butterà un sacco di gente come al solito Però man mano che le persone avranno completato questa challenge Quella zona si libererà un pochino Comunque se volete che vi porti anche una guida su dove poter trovare queste ceste all'interno di questa zona Rifugio ritirato, fatemelo sapere qua sotto nei commenti Poi andiamo alla sesta challenge raga Cerca l'ognoma nascosto in diverse località con nome Questa diciamo che è una challenge che mi ha lasciato un po' così così Ovvero non so che cosa intenda perché Secondo me è uguale a quella dell'ama raga Ovvero che sarà un gnomo al posto dell'ama o qualcosa del genere Però che si potrà trovare in qualsiasi punti Sempre però in località con nome Quindi che ne so, Tilt Towers, Pienacoli Pendenti, Parco Pacifico, Corso Commercio, Boschetto Bisunto Queste località con nome Per località con nome si intende proprio questo Quindi l'unica cosa che non so è se questi gnomi spawnino all'interno di queste località in modalità random Ovvero che una volta lo trovate all'interno di una casa, una volta lo trovate su un panace a piede Un'altra volta lo trovate in mezzo a due alberi, una cosa del genere Quindi non so portarvi una guida approfondita per questa sesta challenge Non vorrei portarvi qualcosa proprio di sicuro Perché credo che non lo sappia nessuno all'interno di Fortnite Comunque per il momento è questo Magari domani ci farò qualche altro video E poi la settima challenge che è quella Segui la mappa del tesoro trovata a Corso Commercio Si dice che la mappa che si debba trovare a Corso Commercio Sia proprio quella lì che vi ho messo di fianco alle challenge Però non è sicura perché è solamente qualcosa di svelato Qualcosa che ancora deve uscire all'interno dell'update Quindi raga sono solamente voci di corridoio Però la maggior parte delle volte queste cose che escono prima dell'aggiornamento sono quasi vere Non sempre però la maggior parte si Quindi dovrebbe essere questa la mappa che verrà trovata a Corso Commercio E che vi porterà a Bosco Blaterante per la ricerca della nuova stellina della settimana 7 La solita stellina che troviamo in ogni challenge che viene aggiunta ogni settimana raga Questa stellina verrà trovata proprio qui dove vi faccio vedere in questo video Dovrebbe essere in questo punto perché ripeto non è una cosa sicura Magari cambiano lo spawn magari cambiano mappa Ma è tutta un'incertezza diciamo questo video Vi sto solamente svelando quelle che potrebbero essere le possibili challenge di domani raga Quindi spero che appreziate questo video Domani mattina vi farò trovare le guide complete su quello che dovete fare e come dovete farlo Mi raccomando quindi seguite questo canale Iscrivetevi, lasciate like e commentate che cosa ne pensate Sia ricordo di questo video e delle challenge future Di quelle che verranno implementate anche domani raga Da Marta Xone qua è tutto e ci becchiamo al prossimo video raga Sia brothers